Ennesimo femminicidio, questa volta nella piccola comunità di Fagnano Castello. A seguito di una chiamata al 112, i militari della compagnia di San Marco Argentano intervenirono presso un'abitazione privata, dove constatavano il decesso di una donna, che in precedenza era stata attinta da alcune coltellate. Sul posto veniva trovato il marito, che veniva accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e disposizione dell'autorità giudiziaria.